Non è incredibile, ma guarda che gliel fanno fare a sto ragazzino, ma certo che ci sono certi padroni che sono proprio gli disgrazi attivi. Hai ragione, non ce la può fare solo questa, damogli una mano. Hai ragione, forza. E damogli una mano, ma sì, va, non mi scherzi. Ma ragazzi, ma perché ti ammazzi così tanto del lavoro? Perché mi ammazzo del lavoro? Perché ho bisogno, di fare un'opera buona. E' certo che se fossero tutti così, ragazzini. Però pesa, ma che ci ha messo? Ma che stai a portare? Ma che sta a portare? La frutta, no? Forza. E spingi. Eh, spingi, spingi. Sì, che sennò mi ha rotto di sorella. Grazie. Ammazza, che padrone carogne che ti ritrovi a mannare. E' nata da solo con sto caretto che pesa una città. Ma tu non gli hai detto niente. Eh, io l'ho detto, io l'ho detto. E lui che ti ha risposto? Eh, lui che mi ha risposto. Ha detto, va, va che tanto tu stronzi che ti danno una mano mi trovi sempre. Ah, 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 ah. Non ve li ho mai. Stop, io la... E io non voglio sentire storie. Deve essere promosso a tutti i costi.